Ma io dubito che Conte possa salvare i 5 Stelle al di là dei suoi meriti o dei suoi demeriti o delle sue capacità, però sono quasi certo che i 5 Stelle non salveranno Conte, nel senso che non c'è motivo al mondo per cui dei colonnelli, alcuni dei quali anche generali, penso a Di Maio, penso alla prima linea che ha comandato il partito, dopo una rincorsa di dieci anni sul più bello siano costretti a cedere lo scettro del comando a un signore che è arrivato l'altro ieri. Quindi fuoco amico, vedi tu, nel futuro di Conte? Assolutamente sì, è già in atto per certi versi, però non sta in piedi dal punto di vista delle logiche umane più che di quelle politiche, che arrivi uno e porti via il giocattolo a chi l'ha costruito quel giocattolo. Succederà qualcosa tipo quello che succede, ma io penso che succederà, diventerà una specie di PD cioè un Vietnaman permanente dove ogni anno, anno e mezzo cambieranno i segretari, i capi, i presunti capi, i direttori ma sarà una guerra civile continua finché non arriverà qualcuno col carisma di Grillo ma c'è già Grillo. Misiani ha avuto un modo di sdegno quando l'hai coronato al PD, te lo devo dire?